Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con The Order 1886 Piano piano siamo sempre diretti verso la sala da ballo per raggiungere Parseval Vediamo un po' se è di qua, sembra di no, quindi da quest'altra parte Sta cacchio di aeronave è veramente grande, uh aspetta che forse è di qua Ecco qua, piano, qui c'è stavo qua, perfetto Perseval, abbiamo un problema Lucan è a bordo della nave Mio fratello, come mai il comandante è qui? Si direbbe che stia filando tutto liscio Sì, Sir Lucan, tutto tranquillo Saremo a Portsmouth in poche ore Già E poi salperai per le Americhe Diamine, doveva scurtare i Lord fino ai confini Non dovrebbe conoscere la situazione Ha rischio di allertare la gente ribelle Galahad ha ragione Alastair non apprezzerà essere all'oscuro di tutto Ce ne occuperemo dopo Potrebbe tornarci utile come supporto nelle emergenze Procediamo secondo i piani Ricevuto Ti aggiorno da un punto di osservazione migliore Ok, saliamo Grazie Bello In posizione Non sparate finché non abbiamo un bersaglio confermato Ricevuto, tratteniamo il fuoco I ribelli hanno rubato le uniformi della compagnia Saranno vestiti da guardie Guardie senza insegne però Le uniformi di Whitechaple non avevano stemmi sulle maniche D'accordo Tienimi aggiornato Girati e fammi vedere Eccolo Le insegne ci sono La guardia vicina a Testings è in regola Perfetto Controlla le ultime guardie Niente insegne Percival Abbiamo un ribelle al piano terra D'accordo Cerca ancora Qua niente Questo non ce lo fa analizzare La signora Eccone in altro Ecco le insegne Percival La guardia in cima alle scale è a posto Bene Cerca ancora Non vedo la spalla giusta Diavolo Non ha le insegne C'è un ribelle sul balcone di fronte Ricevuto Assicurati di controllarle tutte Quello era l'ultimo Bene Neutralizza ogni minaccia Ricevuto Arma caricata Buona traccia Meno uno Sotto con l'altro Lucan Ribelli Dobbiamo portare via Estings Portatelo via Estings è fuggito Servono rinforzi Facciamo il piano B Percival L'obiettivo è a terra Ribelli in arrivo Mi serve aiuto subito Ricevuto Convergiamo su di voi Che miseria Terati sulla capoccia C'è stanno due sopra Ricarica Ricarica Perfetto Aia Aia Porca miseria Aspetta Forza Forza Ricarica St'arma Su 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 Dov'hai Quanti sono rimasti E ancora altri E ancora altri Aia Uno qua Aia Oh e ti è bello bello Sto cacchio di mirino Presa la mano Ok Ancora undici colpi Ci abbiamo Regà Quanti sono rimasti Allora Qua abbiamo una pistoletta Forse sono finiti Possibile Andiamo giù Regà Andiamo giù Cacchio Chi ce l'aveva Forza Devo prendere Quell'altra Andiamo giù Va Piano Regà Pia Oh cacchio Oh Folli Farmi incendiare Al bordo Di un'aeronave Che miseria tua Bello Questo ci piace E' tornato Aia Aia Non inizierà A fa Canari Prende Il fucile Da cecco Preso Buono Altro là Preso Provo Headshot Poi ci dovrebbe sta Uno là dietro Che è andato Aia Ho visto parti i proiettili Ok Finiti 5-3 Andiamo di pistola Va Che delirio Ragazzi Qua si può andare Da che parte andiamo I ribelli Oppongono una strenua Resistenza Quanti ce ne sono Su questa maledetta nave Finiti Qua sembra di si Che miseria Quanti Ammazzati Che cosa diavolo è stato Ha esploso un ordigno Sul motore anteriore Indietro Tutti quanti Sì signora Tu Attenzione Un comandante Ribelle a bordo È la donna Di Whitechapel Prova a prenderla Non lasciartela Sfuggire 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 Dannata la comandante Non la vedo Voi la vedete Rega Calata Resta sull'obiettivo Quando sta Resta sull'obiettivo Ma dove cacchio sta Non lasciartela sfuggire Non ci sta più Vai giù Cassa attenti Questa ci ammazza Aia Tu cacchia È andata La vedete Voi rega La sono persa La comandante Dei ribelli Dove cacchia È andata Qua non ci stanno Manco porte Dove è scappata Sta maledetta Ho cercato Di vedere Se c'è Sta qualche Porta Sopra Si potrà andare Adesso No Dannata Aspetta Resta qualcosa Qua da dove siamo Qua non si passa Capito Dove cacchia È andata Se De ste Parti Non si può Passare No rega Non lasciartela Sfuggire Ho capito Ma Che è scappata Guardate qua Guardate qua Guardate qua Guardate Da dove siamo Venuti Però qua c'è Gente C'è gente Morta Guardate un po' Si è scappata Gravi danni Sì No Maledetti Quanti è bassa Quanti è bassa Qui giungono notizie Di scontri A fuoco nel foyer Sicurezza Qual è la situazione Sicurezza Rispondete Piano 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 I ribelli I ribelli Hanno un altro dispositivo A bordo Diavolo D'accordo Sto arrivando Gamba la comandante Dei ribelli Ma tanto La rincontreremo È questa la tua idea Di buon senso Queste circostanze Non erano prevedibili Alastair La missione a Whitechapel Sarebbe dovuta restare segreta Ho ricevuto notizia Di numerose vittime E ho letto rapporti Su ingenti danni All'ospedale di Londra E adesso questo? Intendo mantenere la mia parola Mi assumerò ogni responsabilità Per le conseguenze Che ricadranno su di noi Sebastian Capisci anche tu Che posso fare ben poco Per proteggerti Dall'ira del Lord Cancelliere O dell'Ordine stesso Tuo padre saprà capire Adesso la nostra preoccupazione È trovare l'altro dispositivo Prima che esploda Cavalieri mi serve aiuto Dobbiamo lasciare la nave Prima che la situazione peggiori Sir Lucan farà da scorta E sovrintenderà l'evacuazione Dobbiamo riprendere la caccia Naturalmente Il problema riguarda tutti Non vorrete certo Rimanere a bordo Noi arriveremo Non appena possibile Isi Occupati di questi Poi vai alla cabina No Io vengo con te Isi Devi trovare la faietta E abbandonare la nave Ma Tuo fratello mi ha chiesto Di riportarti sana e salva Fallo Per me Vai Trovo i sabotatori ribelli Mamma mia ragazzi Spero che il video Stasse a vostro gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace Sul mio video E ci vediamo con Tanti nuovi video Sempre qui Sempre Sul mio Canale E ci vediamo con